Le 7.55 è Tempo di talenti vulcanici con Antonella Maffei. Quest'oggi vi parleremo di un talento molto, ma molto particolare. Io faccio delle sculture, un mio hobby particolare, le sculture fatte in capelli veri, cioè capelli indiani. Sono tutti capelli veri, sono lavorati praticamente con un gel particolare. Non sono in vendita, è un mio hobby, una mia passione. Si è stata chiamata anche per un restauro di un'antica Madonna. Infatti mi ha fatto molto onore questo restauro della Madonna di Afragola Casoria, la Madonna del Rosario. Bisogna studiare bene l'epoca, a secondo l'epoca del ricamo dell'abito della Madonna. Ad esempio la Madonna del Rosario aveva i riccioli in un modo orizzontale. Vedi appunto una medaglia da Guinness, qual è il tuo Guinness? È di aver lavorato una Fiat 500 di un quintale di capelli. Un chilo di capelli costa 800 euro. Al arrivare a un quintale sono del valore di 80.000 euro, è da pazzi proprio. E la 500 la usi qualche volta? Certo, diciamo che quando vado a fare la spesa la gente mi guarda tutto perplessa. Mi piace pettinarla, stirargli le frange perché come tutte le donne vanitose ama essere aggiustata la frangetta. Non mi piace vederla in disordine.